Il match tra Catanzaro e Catania si avvicina rapidamente e non c'è dubbio che questa sarà per i rossazzurri una delle trasfette più importanti della stagione. Bisognerà innanzitutto reagire alle quattro sconfitte consecutive e si dovrà cercare di vincere a tutti i costi e in qualunque modo. È ovvio poi che sarà fondamentale fare anche una prestazione di un certo livello per far capire che il momento terribile vissuto nell'ultimo mese si può davvero mettere alle spalle. Giovanni Pulvirenti e Orazio Russo stanno lavorando senza sosta proprio per questo cercando di curare il Catania con la giusta medicina. Questa sembra legata in modo indissolubile all'attacco e al fatto che si possa far svegliare al più presto ovvero già a Catanzaro. Ci si attende quindi che il reparto avanzato dia la scossa alla squadra dei suoi risultati a partire dal Ceravolo dove dovrebbe essere Pozzebona a guidare il reparto avanzato probabilmente con Mazzarani e Russotto a supporto. In mediano invece bisogna capire chi tra Biagianti e Bucolo giocherà da centrale ma è certo che entrambi giocheranno dal primo minuto probabilmente con Fornito a completare il reparto. In difesa infine è possibile che Drauzio osservi un turno di riposo lasciando spazio al centro a Bergamelli e Marchese con Giorgiovic e Parisi sulle fasce nel pacchetto arretrato a protezione di Pissari.